Novità estetiche e interni più ricchi e curati, tanto spazio in dimensioni compatte e tecnologia avanzata. Tutto questo è un nuovo T-Cross, pensata per accompagnarti nei tuoi spostamenti quotidiani e nel tempo libero. È finalmente arrivata al concessionario Volkswagen Scotty di Livorno ed è pronta ad offrirti tutto ciò che desideri da questo splendido city suit. La nuova T-Cross offre tre allestimenti, Life, Style ed R-Line. Quest'ultima è caratterizzata da un allestimento più sportivo. La vettura è disponibile esclusivamente con motore benzina 1000 TSI, proposto nella duplice versione da 95 e 115 CV e cerchi in lega che vanno dai 16 ai 18 pollici a seconda dell'allestimento scelto. Esteticamente gli aggiornamenti principali su questa nuova T-Cross riguardano il frontale, la nuova mascherina e il nuovo disegno di fari che su tutte e tre le versioni sono a LED. È stato aggiornato anche il paraurti, sia anteriore che posteriore, adesso cromato e non più nero in plastica. Inoltre debuttano come optional i fari a matrice di LED, rivisto anche il disegno dei fanali posteriori che ora hanno un aspetto ancora più tridimensionale. Una grandissima novità sono anche i tre nuovi colori, questo bellissimo azzurro scelo, il giallo acceso e il rosso vivace. All'interno il nuovo volante multifunzione, il cruscotto soft touch e gli inserti in pelle sia su cruscotto che sulle portiere anteriori conferiscono alla nuova T-Cross un look molto più raffinato. I sedili Sport Comfort per le versioni Style e R-Line offrono ulteriore supporto durante la guida. Inoltre a bordo di nuova T-Cross è disponibile di serie il quadro strumenti digitale Digital Cockpit con display a colori ad alta risoluzione da 8 pollici, mentre il Digital Cockpit Pro da 10 pollici è di serie sulle versioni Style e R-Line. Tutte le versioni includono di serie l'infotainment da 8 con l'app Connect Wireless. Infine la possibilità di ripiegare tutti i sedili offre a nuova T-Cross una configurabilità degli interni pressoché infinita. Tra i principali pacchetti a richiesta abbiamo il Tech Pack e l'Assistance Pack, disponibili su tutte e tre le versioni. Il Tech Pack prevede la retrocamera, l'apertura delle porte e avviamento senza chiave e il clima automatico B-Zona Climatronic. L'Assistance Pack invece prevede il pretenzionatore delle cinture di sicurezza, il Park Assist e il Side Assist, il sensore angolo cieco. Nella versione Style si ha inoltre la possibilità di avere lo Style Design Pack, che prevede cerchi in lega da 18, specchietti retrovisori neri e le finiture degli interni in tessuto mista. Non ti resta che venirci a trovare presso la concessionaria Scotty Volkswagen di Livorno per venire a vedere e provare su strada il nuovo T-Cross, il City SUV bello da vivere.